L'Abruzzo per ora ha ancora i numeri da zona gialla, ma la situazione negli ospedali è critica. Lo ha detto ieri sera il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione della cabina di regia regionale conclusesi alle 22. Attualmente negli ospedali abruzzesi il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è oltre la soglia del 20% che determina la zona arancione. L'unico dato ancora da zona gialla è quello che riguarda le aree non critiche, dove il tasso d'occupazione è 4 punti percentuali al di sotto del limite. Il numero di persone che sono oggi ricoverate, soprattutto in terapia intensiva, è un numero enorme. Io lo voglio chiarire perché le persone che non sono tecniche del mestiere pensano che avere il 10, il 15, il 20% di persone in terapia intensiva significa che i reparti sono semivuotici, c'è ancora tanto posto, ha voglia ad arrivare a 100. Non è così, basta avere un 10-15% di posti occupati in terapia intensiva e gli ospedali vanno in overdose, vanno in tilt, cominciano a dover chiudere i reparti, non hanno più personale da dedicare alle sale operatorie, rinviano le operazioni. È questo il danno che si infligge da parte delle persone che finiscono in terapia intensiva. Possiamo aggiungere posti nei reparti e anche acquistare nuovi ventilatori, spiega Marsilio. A mancare però è il personale sanitario. I lavoratori disponibili sono già tutti assunti, ha dichiarato il governatore. Non è un problema di fare nuovi posti, ne possiamo fare ancora al doppio di posti di terapia intensiva. Basta che qualcuno ci spedisca o ci dia i soldi per comprare i ventilatori, lo facciamo anche a debito. Il problema è che non esistono anestesisti e rianimatori in numero sufficiente per curare e specialisti per poter curare le persone in quelle condizioni. E questi non si fabbricano, non si acquistano sul mercato, non esistono più, sono tutti assunti, lavorano tutti. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Nell'ultima settimana in Abruzzo sono state somministrate circa 15.000 dosi al giorno. Rispetto alla settimana precedente il numero di prime dosi, inoculate agli over 50, è triplicato. Il 75-80% in alcuni casi di persone che sono oggi ricoverate in terapia intensiva sono persone che non si sono vaccinate. Questo è l'impatto vero e dannoso di chi ha scelto di non vaccinarsi e che ha condotto oggi a questa situazione di difficoltà dentro gli ospedali.